Hotel Palazzo Giordano Bruno, elegante hotel 4 stelle. La struttura, unica nel suo genere, è situata in un crocevia privilegiato della strada statale 7 bis. A caratterizzare l'hotel, definito albergo-museo, è la presenza di una collezione di circa 100 opere d'arte contemporanea dedicate al filosofo Giordano Bruno. L'hotel, accogliente, elegante e familiare, garantisce il benessere dell'ospite, attirando anche molti viaggiatori internazionali. Nelle 31 camere, luminose e raffinate, ci sono grandi vetrate e ampi spazi per clienti amanti di comfort, eleganza e arte. Inoltre, pacchetto Mediaset Premium gratuito. Nell'albergo sono presenti un'area relax con caffè e pensatoio, una zona lettura, una sala riunione, uno spazio verde, connessione internet wifi e parcheggio gratuiti. Fiore all'occhiello dell'hotel è il ristorante Corte Fellana, aperto tutti i giorni a pranzo e cena anche alla clientela esterna dell'hotel, poiché è dedicato agli amanti della buona tavola e della tradizione. Fiore all'occhiello dell'hotel è il nostro canale.